nel porto di matadi durante i miei vent'anni di servizio in marina trascorsi ben poco tempo a terra non approvavo i soggiorni in porto con i divertimenti grassocci dei marinai i soggiorni erano necessari solo in quanto servivano per mantenere le navi in mare in breve non ero un marinaio e la marina per me avrebbe potuto mettersi in disarmo però ero un ottimo pensatore avevo una grande fami di dio rimanevo per ore nella mia cuccietta a guardare pigramente il mare oppure il porto se eravamo attraccati dopo aver imparato a memoria la bibbia evangeli attaccai a leggere i veda che secondo me contenevano le estreme verità trascendenti lessi il ramayana e il maa barata in cui è contenuta la bhava gadghita e tutti purana il gruppo di testi sacri hindù che sono la principale ispirazione del movimento ara krishna lessi e rilessi un giorno nel porto di matadi eri in congo scesi anch'io a terra con gli altri marinai insieme visitamo un lungo promontorio roccioso contro il quale l'acqua si frangeva in morbide onde schiumose contro le mie abitudini ebbi voglia di tuffarmi nell'acqua traslucida e profonda mi tuffai male e battei tanto forte il ventre e il torace che persi i sensi fisici più nulla tranne le lontanissime grida e statiche dei compagni che si erano tuffati con me mi trovai in un ambiente dove non c'era segno di presenza umana mi aveva accolto l'ambiente astrale che mi separava da altri ambienti con sponde alte che nascondevano presenze che avrei voluto conoscere provavo un benessere che non avevo mai provato prima le sponde che mi limitavano il benessere mi apparvero come castelli di pensieri ostacoli creati dalla mia mente dopo un tempo che non era un tempo i compagni si accorsero che galleggiavo inerte e mi salvarono fui rianimato senza danni quando fumo di nuovo sulla nave mi venne a trovare il capitano che disse non senti che meraviglia è il rollio del ponte sotto di noi che bisogno avevi di tuffarti non ricordo quello che risposi pensai che tutte le mie letture pure azioni della mente erano nulla rispetto allo stato di coscienza che avevo provato dopo il tuffo